Prosegue a Santa Croce in Gerusalemme nell'ambito della rassegna per il cinema italiano, la settimana dedicata ai fratelli italiani, al cinema dei fratelli italiani. E abbiamo qui con noi un attore che ha avuto l'onore e il piacere di lavorare con loro, oltre che con una quantità di registi impressionante da De Sica in giù, insomma. Lino Capolicchio, buonasera Lino. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Lino Capolicchio ha tra l'altro, ma da poco ho terminato di scrivere, un libro bellissimo che come centro sperimentale dovremmo pubblicare, insomma, poi, ma questa è una cosa di cui vi parleremo a suo tempo, che è un libro su tutti gli incontri importanti che Lino ha avuto nella sua lunga carriera e quindi vorremmo che ci raccontasse un po' l'incontro con i fratelli italiani. Come è andata? Allora, l'incontro con i fratelli italiani ha una data molto lontana. Il primo incontro è questo, in un'arrovente estate del 67. Ero ancora un ragazzino girovago che aveva fatto teatro, aveva avuto anche un discreto successo, però cinema non l'avevo fatto. E mi dicono, la mia gente di allora mi dice, guarda che ci sono italiani che stanno preparando un film, vai a farti vedere. E io vado, e in realtà i fratelli italiani non c'erano, c'era Valentino Orsini, il quale mi guarda e mi dice, ma scusi, ma lei è inglese? Dico, no, 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 sono italiano, sono di Merano, quindi sono alto attesino, quindi sono crucco, però italiano, parlo l'italiano. No, dice, perché lei sembra inglese? Ma scusi, perché non vai in Inghilterra? No, dico, non mi sembra il caso, ho visto che loro hanno tanti attori bravissimi. Cioè, io cosa vado a fare? Sarei l'ultimo, l'ultima ruota del carro, quindi... E sì, ma lei non è giusto per questo nostro film che si chiama I sovversivi e non la vediamo, almeno io non la vedo molto giusto. Ah, va bene, no, grazie, va bene lo stesso, grazie molte, eccetera, eccetera. E me ne sono andato sconfitto e non avrei mai immaginato che tantissimi anni dopo, ormai attore di fama, sarei stato chiamato da Paolo e Vittorio Taviani. Tra l'altro, io proprio in quei giorni dovevo fare un film in Africa e avevo già filmato un precontratto e la gente mi dice, no, guarda che ci sono italiani che ti vogliono assolutamente per il loro film, assolutamente, assolutamente. Anzi, mi hanno chiesto che ti vogliono incontrare. E allora io li ho incontrati e loro mi hanno detto, guarda che tu, che devi fare? No, io dovrei cominciare un film. Ma come un film? No, tu fai il film con noi, non con altri. Ah, sì, certo che faccio il film con voi. E quindi mi sono arreso ai Taviani, poi lì ho avuto una bega un po' giudiziaria, ma siccome non avevo firmato il contratto, avevo firmato un precontratto e questo mi ha salvato. E cosa devo dirti? Devo dirti che esistono dei registi che scrivono in prosa, bravi, ne ho conosciuti tanti, stimatissimi, ma poi ci sono dei registi che scrivono poesia. Ecco, io i fratelli Taviani li metto tra i registi che scrivono poesia. E questa sensazione ce l'hai immediatamente, quando arrivi sul set, il loro set ha qualcosa di liturgico, nel senso morale. Cioè la loro moralità, il loro senso morale è così alto, è così forte, è così preciso, che tu ti senti quasi in soggezione. Poi loro sono persone amabilissime, non urlano, anzi parlano sotto voce, eccetera. Certo, hai a che fare con due persone diverse, perché ognuno di loro gira una sequenza. E sono, almeno a me, sembravano molto diversi caratterialmente, anche se poi naturalmente erano complementari. Però, mentre Vittorio era molto estroverso, Paolo mi sembra più chiuso, anche se poi naturalmente il rapporto è stato bellissimo comunque. Dunque, la cosa che mi ha sorpreso è che un giorno, Vittorio, giravamo una scena, e alla fine mi ha guardato e mi ha detto ma tu, ma tu sei bravissimo. Cioè, come se lui l'avesse scoperto in quel momento. E a me mi ha sorpreso, perché mi ha sorpreso la sua sorpresa, il suo essere sorpreso. E quindi ho capito che i grandi, quando si mettono al lavoro, è come se ricominciassero sempre da capo. E quindi tutto diventa sorprendente, in qualche modo. E questo è bellissimo, perché questo significa che sono delle persone di grande umiltà. I grandi sono anche delle persone estremamente umili. Invece, i mediocri, in genere, sono dei gradassi, quelli che si danno un tono per far capire che loro invece sono grandi, quando invece non vogliono, anzi, sanno benissimo di essere mediocri, ma non lo vogliono dire, non lo vogliono far vedere, insomma. Senti, ci dicevi poco fa, a microfoni non ancora accesi e a telecamere ancora spente, che tu nella tua vita hai proprio avuto dei registi con cui hai voluto lavorare, che li hai cercati. Non so se li hai stalkerati addirittura. I taviani facevano parte di questa squadra, oppure dopo quel primo incontro in cui Valentino Orsini, il loro vecchio compagno di lavoro, che aveva firmato con loro il loro primo film, Un uomo da bruciare, dopo appunto che Orsini ti aveva detto che eri inglese, li avevi in qualche modo depennati dalla tua lista di ambizioni? No, perché io le persone di talento, di ingegnale, in qualche modo, di grande qualità, io ho sempre inseguito la qualità, a scapito del denaro. Io, guarda, ho fatto non tanti film, però io ne ho fatti 35, 36, però io ne ho rifiutati, guarda, almeno una quarantina. E ho rifiutato anche dei film che hanno avuto un grande successo commerciale, naturalmente. ma non mi piacevano, leggevo il copione, il copione non mi piaceva e dicevo no. Io ho bisogno di fare delle cose di alto livello perché soltanto così mi sento in qualche modo compiuto. Ecco, sto bene, ho bisogno di affrontare delle prove, insomma, di un certo tipo, se no io mi sento meno mato, mi sento, dico, perché devo fare questo mestiere se lo faccio ad un livello così basso? Cioè, questo mestiere va fatto ad alto livello, se no, secondo me, insomma, a me non è mai piaciuto fare delle cose tanto per fare una cosa o tanto perché mi pagano bene. Ecco, questo non fa parte del mio vocabolario. E quindi io devo fare delle cose, tant'è vero che poi negli ultimi anni non faccio nulla praticamente. Adesso farò un film con Avati perché Avati è un amico, quando mi chiama non posso dirgli di no, va bene. Però non faccio nulla perché non mi arrivano proposte interessanti. Poi se hai lavorato con Elio Petri, con Lizzani, con i fratelli Daviani, con Pupiavati, con De Sica, con Streler, eccetera, fai fatica a lavorare con qualcuno che non sia... Tra l'altro una volta mi è successo con un giovane regista, ti racconto questa che è incredibile, un giovane regista, la mia gente mi dice, guarda c'è un giovane regista, cerca il protagonista, vai da lui. E lui aveva davanti il mio curriculum e mi dice, io dovrei farle un provino. Com'è? Sì, guardi, no, io avrei bisogno di farle un provino. Ora, non era Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, che mi chiedeva di fare un provino, era un signore che era al suo primo film e quindi a me è venuto spontaneo dirgli, guardi, sono io che dovrei fare un provino a lei per stabilire se lei è in grado di girare un film. Allora lui mi ha detto, no, ma guardi, qui c'è un equivoco. No, guardi, nessun equivoco, lei adesso mi chiama un taxi perché io voglio andare rapidamente a casa mia. No, ma guardi, lui continuava a, no, ma guardi, c'è un errore, c'è un errore di valutazione da parte sua. No, no, ho valutato benissimo la sua impudenza e me ne sono andato. Cioè, ma incredibile, no? Sarebbe bello sapere chi era questo giovane regista, ma non te lo chiederemo perché siamo tutti dei signori. Sarebbe bello sapere chi era questo giovane regista, ma non te lo chiederemo.